Quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti e poi quelli come me si svegliano a metà e rimangono con sogni in mezzo aperti avrai ragione te per fare come fai a stare con chi vince cambiarti le camicie e sta a vedere che sappiamo già com'è ci riposiamo d'oro dopo morti tutti vogliono riaggiare prima lo stesso che c'è tipo quel che vuoi tutti quanti con i drink in mano sotto come va fuori come va fuori come va e quelli come me si fanno vincere ma è come non benissimo al momento con quei vegetti lì e tutti i fetti lì che ci fa stare sempre più contenti e avrai ragione te a fare come fai a startene da furbo nel mondo dei più furbi ma sta a vedere che sappiamo già com'è noi ci teniamo a togliere il disturbo tutti vogliono riaggiare prima lo stesso che c'è tipo quel che vuoi tutti quanti con i drink in mano sotto come va fuori come va tutti vogliono riaggiare prima perché il viaggio non finisca mai tutti tutti con il vostro finestrino sotto come va fuori come va fuori come va fuori come va siamo quelli che da quelli come te non si fa mai mancare da bere perché siamo quelli che è meglio che lo sai con quelli come te sono sempre pari e qua tutti vogliono riaggiare prima tutti con i drink in mano sotto come va fuori come va tutti vogliono riaggiare prima tutti con il vostro finestrino sotto come va fuori 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 come va Grazie a tutti.